Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoli. In FIPILI per lavori si viaggia in coda a tratti tra Ginesta Fiorentina e Empoli Est in entrambe le direzioni. Sulla dirammazione per Pisa in direzione Firenze, coda per lavori tra Pisa Nord-Est e Navacchio. Lo svincolo di Montelupo resta chiuso in entrambe le direzioni e in uscita in direzione mare. In A1 si registrano core in direzione Roma tra Firenze Sud e in Cisa Reggello. Sulla A12 core a tratti per lavori tra Carrara e Versilia e tra Sarzana e Carrara in direzione Sud. Sul raccordo siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 Firenze in Pruneta. In occasione del Gran Premio del Mugello, importanti provvedimenti sulla viabilità della zona nei prestiti di scarperia. Tutte le info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!